Dopo soli 7 giorni il picco torna ad essere teatro di un big, dopo quello tra Spezia e Siracusa terminato 1-1. Per provare a battere la cremonese del neacquisto Possanzini, Mr. Serena alza Madonna a sua linea di centrocampisti, inserendo i rientranti Morabas a sinistra e Daniele Buzegoli in cabina di regia, con Lorenzo Lolla a proiezione. In attacco ancora confermata la coppia Junco evacuo, mentre il nuovo acquisto Claudio Grauso si accomoda in panchina. Dopo il minuto di raccoglimento, osservato in memoria dello storico ex giocatore e tifoso dello Spezia Giuseppe Ciavolino, scomparsa alla vigilia del centenario personale, la prima occasione per gli ospiti, con la botta di Filippini al settimo, che sferra il palo a sinistra di Russo. Lo Spezia prova ad attaccare, ma nei primi 20 minuti non riesce a portare veri e propri pericoli alla porta difesa d'Alfonso, così è di nuovo l'affermazione di Mr. Brevi e farsi vivere in avanti, ma la conclusione di Tachinardi, sui sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, termina contro i cartelloni pubblicitari. Al ventunesimo, Buzegoli impegna severamente Alfonso con una potente conclusione centrale, ma il numero uno Lombardo è reattivo e spinge in corner. Sul calcio d'angolo che ne consegue, Madonna peschina a Junco, ma la girata di testa dell'attaccante Brindisino non trova la porta avversaria. Al ventottesimo, Rigione ci prova di testa sui sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, ma la palla termina alta sopra la traversa. Un minuto più tardi la risposta spezzina affidata a Buzegoli, ma la conclusione dell'ex centrocampista del Varese è troppo centrale ed Alfonso riesce a bloccare in due tempi. Al trentaduesimo il picco grida al gol, ma la terna arbitrale nega la gioia dell'1-0 alla formazione Aquilotta. Sull'angolo di Mora da destra, Pestrin deve ammaldestramente la sfera verso la sua porta, ma Alfonso con un guizzo felino riesce ad evitare che questa si infili in rete, con i giocatori Aquilotti che chiedono a gran voce il gol, smentiti però dal direttore di gara. Due minuti dopo Junco prova l'orgoglio dal limite destro dell'area Lombarda, ma la conclusione trova Alfonso ben appostato. Al trentaseiesimo l'urlo di gioia del picco viene ancora una volta sostituito dalle proteste, quando dopo il palo colpito da Vannucchi, Junco riprende la sfera e calcio a colpo sicuro, con la palla che viene ribattuta con il braccio da Sales, per un rigore che anche a rallenti appare solare. Passano altri due minuti e gli Aquilotti si convincono che la porta di Alfonso sia protetta da un sortileggio, dato che anche la violenta conclusione dei 25 metri di Mora si stampa contro il palo a sinistra del numero 1 grigio-rosso, lasciando ancora lasciuto gli uomini di Mister Serena. Al quarantaquattresimo Possanzini accorcia il conto dei lenni colpiti, con la sua violenta conclusione che si stampa sul palo a sinistra di Russo. Sul capovolgimento di fronte Sales si atterra con le maniere forti di Junco, guadagnandosi il secondo giallo della sua partita e quindi la dosso anticipata. Con la cremonese costretta in dieci uomini, il secondo tempo si apre subito con gli Aquilotti in avanti, ma la conclusione di Vannucchi e Alquinto non trova lo specchio della porta avversaria. Al sessantesimo Buzegoli batte un calcio di punizione dalla sinistra, la respinta dalla difesa lombarda è corta, così Lollo può provare la conclusione dal limite, ma il tiro viene deviato terminando in corner. Al sessantacinquesimo gli ospiti si rifanno vivi dalle partite di Russo con Nizzetto, che ci prova direttamente dal calcio di punizione, ma il numero 1 Aquilotti è attento ed allontana il pericolo. Al ventesimo della ripresa il niente è entrato bianco mette al centro della sinistra, Evacco salta più in alto di tutti e riesce ad incornerare. La sfera termina tra le braccia di un sempre presente Alfonso, proprio il portiere grisorosso non ne vuole sapere di subire gol, e lo dimostra a 14 dal termine, quando compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione a botta sicura di bianco servita alla perfezione da Marotta. Un intervento davvero prodigioso. All'ottantacinquesimo Lollo lavora un ottimo pallone sulla sinistra e serve al centro Marotta, ma l'ex barese non trova la giusta coordinazione, sparando altissimo. L'ultimo brivido dell'incontro lo offre Antimo Junco, brava ad accentarsi da sinistra e a scaricare il destro verso la porta avversaria, ma la mira non è dei migliori e la palla termina ampiamente a lato. Secondo pareggio a casalinga consecutiva e dalle porte una trasferata difficilissima a casa della capolista Trapani, capace di vincere in rimonta anche ad Andrea, rispondendo così alla vittoria a casalinga del Siracusa, secondo in classifica. Non sarà dunque una partita facile, ma dopo i due punti raccolti nelle ultime due uscite, lo spezza dovrà tentare l'impresa, per accorciare il gap con i siciliani, ed evitare che le inseguitrici scalino ulteriori posizioni, proprio a danno della formazione di Mister Serena. SIGLA